ben ritrovati di nuovo su review e oggi vado a recensire insieme a voi queste tende marcate che home clan fix sono delle tende davvero carine davvero particolare che vi permettono di alternare quando andate a recuperare diciamo la tenda tramite la catenina vi permettono di alternare una privacy totale quindi tutto coperto oppure una privacy che vi permette di intravedere anche fuori dalla finestra quindi ci sarà una striscia vi faccio da vedere una striscia più chiara una striscia più scura ci sono diversi colori disponibili vi lascio comunque il link in descrizione del prodotto così non vi potete confondere con le altre tende che vengono vendute su amazon e in questo caso ho scelto il colore bianco con misura 50 x 150 tenete bene in considerazione che ci sono tantissime misure che variano dai 40 fino ai 105 centimetri di larghezza quella lunghezza solitamente è un 150 centimetri o un 200 centimetri io in questo caso l'ho presi 50 x 150 per mettere su due finestrelle della mia home jib quindi proteggermi da occhi indiscreti tenete conto che però le dimensioni che vengono indicate su amazon non riportano il lato diciamo coprente quindi calcolate sempre che 50 centimetri sono non la tenda in sé ma anche il supportino i lati del supporto che vanno ad ingombrare se volete invece sapere la misura effettiva coprente dovete togliere esattamente 3 centimetri quindi io sapendo già questa cosa ho comprato 50 centimetri 50 x 150 sapendo che poi alla fine 3 centimetri vanno via quindi come lato coprente abbiamo un 47 centimetri la mia finestra dall'angolo del vetro all'altro angolo misura 45 quindi è perfetto avanzerà un attimino fuori ma non è un problema state anche attenti se avete delle maniglie che appunto la misura sia quella giusta perché magari vi va a cadere sulla maniglia e poi non va bene insomma detto ciò ci sono anche il colore grigio arancione marrone e altri colori tra cui anche verde azzurrino blu però ovviamente dipende dalla disponibilità non sempre c'è il colore per la misura però date un occhio e troverete magari quello che più vi piace mi serve andiamo a vedere insieme il contenuto fogliato illustrativo in tante lingue quindi già questo è una buona cosa un po' come le istruzioni dell'ikea ci sono indicati tutti i procedimenti passaggi per andare a montare scatolina dove abbiamo i vari componenti questa qua si va a montare praticamente nella nello spessore della finestra appoggiandola c'è anche comunque l'adesivo 3m eventualmente poi abbiamo la catenella si va diciamo a mettere sulla tenda poi servirà per appoggiare la tenda e poi guardiamo la tenda in sé che andrò ad applicare e farò sicuramente un video per farvi vedere poi il risultato faccio vedere il materiale è una plastica niente male devo dire sembra anche resistente come anche il tubolare ecco come si presentano una volta montate sono davvero stabili vi consiglio di mettere prima questo perno sulla finestra e poi di andare a premere così che avete appunto la vostra dimensione che si adatta una volta che avete preso le misure poi togliete l'adesivo 3m la pellicola e andate a incollare veramente ottimo risultato ecco abbiamo la catenina che permette di creare questo effetto tutto coperto oppure in questo modo che si vede attraverso di che descrizione del prodotto se avete domande non evitate a porne